Grazie Presidente per esprimere ovviamente il voto favorevole di questa maggioranza su questo emendamento e vorrei destare l'attenzione delle opposizioni che hanno sottoscritto tra l'altro la delibera di iniziativa consigliare che prevede e concretizza la volontà di questa amministrazione di intervenire sulla linea Roma-Ostialido che fa parte non solo di un intervento singolo ma di un ben più ampio piano di potenziamento di quella linea che deve rientrare nel network infrastrutturale della capitale. Voteremo favorevolmente. Grazie.